Musica Aprile mese della prevenzione. L'associazione Onlus Alice in collaborazione con Casagit hanno organizzato un'importante iniziativa rivolta ai giornalisti per la prevenzione del rischio ictus cerebrale. L'ictus cerebrale è una malattia molto frequente, è diventata molto frequente, è una patologia particolarmente invalidante in quanto causa di una gravissima disabilità. Diciamo che l'ictus viene di colpo una volta e poi accompagna la persona per tutta quanta la vita, quindi è importantissimo conoscere quali sono i fattori di rischio che possano determinare un ictus cerebrale. E' stata organizzata questa giornata da Alice Italia e quindi che si sviluppa su tutto quanto il territorio nazionale e anche qui in Sicilia per sensibilizzare la gente alla conoscenza dell'ictus cerebrale e quali sono i fattori di rischio. Oggi sottoponiamo i giornalisti iscritti a Casagit a una serie di valutazioni, quindi misurazione della glicemia, misurazione della pressione arteriosa, la valutazione ecocolordoppler dei vasi del collo e stabiliamo qual è il punteggio di rischio ictus in maniera tale da prendere eventualmente i provvedimenti per una prevenzione primaria adeguata. Quali sono i principali rischi e fattori che determinano l'ictus cerebrale? I fattori di rischio e l'ictus cerebrale sono vari. Innanzitutto alcuni in relazione allo stile di vita, quindi l'alimentazione, il fumo di sigarette, la mancanza di attività sportiva e poi tutta una serie di altre patologie, quindi patologie cardiovascolari, perché cuore e cervello vanno sempre di pari passo, il diabete, la fibrillazione atriale, che è una patologia cardiaca che è strettamente connessa all'insorgenza di ictus cerebrale, i livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue e la glicemia, eccetera. Quindi prevenzione, prevenzione, prevenzione. Prevenzione a tutti i costi, perché con la prevenzione sicuramente è possibile ridurre l'incidenza dell'ictus cerebrale. La prevenzione sì è importante, ma non soltanto la prevenzione, è importante anche riconoscere i segni in tempo, poiché l'ictus è possibile trattarlo se l'insorgenza dei sintomi è avvenuta entro 4 ore e mezzo, cioè oggi abbiamo la possibilità attraverso specifiche terapie di intervenire per ridurre al massimo i danni dell'ictus cerebrale. I sintomi da riconoscere e per cui noi cerchiamo di fare una campagna informativa, e quindi per far conoscere quali sono i sintomi specifici dell'ictus sono generalmente alterazioni nel linguaggio o tipicamente la riduzione della motilità di un lato del corpo, quindi braccio e gamba dello stesso lato. Sono questi i sintomi, diciamo, specifici. Grazie a tutti. Grazie a tutti.